Non è cambiato nulla, perché io sono stato eletto nel 34, ho il 46% di gradimento, era così anni prima, non è che, voglio dire, in Sicilia non è che abbiamo avuto i numeri bingari della regione pescana, il cielo sinistro non è che è una grande tradizione storica, quindi i dati vanno eletti, quindi per me vanno benissimo, per 100 sono super eletto.